La media mediata è il sistema negli ultimi vent'anni più utilizzato negli appalti pubblici. È un sistema francamente assurdo perché ha solo un valore matematico. Sostanzialmente ogni impresa deve fare un ribasso percentuale sull'importo a base di Gaia. Vengano messe poi a confronto tutte le offerte, vengano scartate il 10% dei partecipanti che hanno offerto i ribassi più alti e il 10% di quelli che hanno offerto i ribassi più bassi, del rimanente viene fatta una media, vengano scartate coloro che hanno offerto un ribasso più basso di questa media, delle rimanenti viene fatta un'ulteriore media e si aggiudica l'appalto colui che si è avvicinato per difetto di più alla seconda media. Questo è un sistema sostanzialmente che è un terno all'otto e che non rende possibile gestire le aggiudicazioni in base all'effettiva capacità di realizzare i lavori ma semplicemente a una serie di numeri sparati più o meno a caso. E questo è però per le opere di piccolo... Questo è un sistema che secondo il codice dei contratti può essere adoperato dai lavori da 0 a 5 milioni di euro e è statisticamente il sistema che viene usato nel 70-80% degli appalti entrati. Ok.